La minima cosa che possiamo fare è proprio quello di non far pagare il pedaggio perché appunto non c'è il servizio, non è corretto che pendolare o altri cittadini che devono percorrere l'A24 hanno tutto questo disagio. Se non c'è il servizio non deve esserci neanche il costo e quindi è ingiusto che venga pagato. Quindi o viene azzerato nel brevissimo tempo o altrimenti andrò direttamente a bussare la porta perché non mi sembra una cosa corretta. A livello infrastrutturale purtroppo stiamo vivendo un momento non felice per i cittadini e quindi dobbiamo lavorare per fare in modo di alleviare soprattutto i costi ma anche i tempi e la qualità della vita. Ci sarebbe stato secondo me necessità di un coordinamento maggiore a livello perlomeno regionale visto che parliamo di ANAS, di commissario dei lavori per la sistemazione del sistema acquifero del Gran Sasso e l'altra autostrada, la dorsale adriatica. Quindi la somma si voleva certamente bisogno e necessità di un coordinamento regionale. La domanda è serviranno questi lavori? Io non lo so, non sono un tecnico. Penso sempre alla buona fede di chi in maniera specifica, professionale, ne sa più di me quindi mi auguro che sono necessari questi lavori.